Un saluto a tutti i lettori di Telefonino.net, video che sto registrando con l'Ascend G6 di Huawei. Il video è in HD, 1280x720 pixel, con regolazione continua dell'esposizione e della messa a fuoco, che può essere anche forzata con un tap sul display. Proviamo subito dei movimenti un po' più rapidi. Proviamo anche ad andare contro luce, nonostante sia estate, oggi è una giornata davvero molto nuvolosa. E proviamo anche lo zoom digitale, fino a un massimo di 4x, lo effettuiamo con un pinch sul display. Torniamo su un soggetto avvicinato. Forziamo la messa a fuoco. Ripeto, video registrato con l'Ascend G6 di Huawei.